Buongiorno, io sono Fiorella Vivant e lavoro presso Catei. In Catei mi occupo della formazione, sono una commerciale, mi occupo della formazione dei clienti. Per clienti si intende più venditori. Io mi trovo qui perché ho bisogno di imparare a presentare tutto ciò, presentare la mia formazione in un modo diverso da come la presento ora. Utilizzando parole diverse, inquadrando la persona che ho davanti, quindi le esigenze della persona e di come devo parlargli e di imparare ad osservare le persone, sapergli spiegare le cose nel modo corretto. Con tutti diciamo i miei clienti barra amici dopo la fine perché diventano anche questo. Mi porto casa da questa esperienza e la voglia di mettere in atto tutto ciò che mi ha detto Paolo, il saper porsi verso le persone che hai davanti. Grazie per la visione! Grazie!